Juventus-Bologna termina 3 a 0. La Juventus ritrova la forma fisica persa in qualche partita che ci fu o comunque ci è stata e fa un bellissimo tris di gol contro il Bologna che rimane a 0. I tre gol sono, o meglio arrivano il primo nel primo tempo, gli ultimi due nel secondo tempo. Il primo è a firma di Filip Kostic al ventiquattresimo del primo tempo, poi il secondo a firma di Dusan Blavic al cinquantanovesimo del secondo tempo ed infine l'ultimo, ma non per questo di minore importanza, a firma di Milik al sessantaduesimo minuto di gioco. La prestazione è efficace, è una prestazione degna del nome che porta. La Juventus, ripeto, ritrova una smagliante forma fisica, si impegna in modo costante, garbato e arriva per la Juve la vittoria. Complimenti, la di Bologna purtroppo non riesce a compiere grandi cose, non fa neanche un cuore, questo è un seno evidente di una stanchezza che forse è arrivata proprio nei confronti del Bologna. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi utenti di Youtube. Iscrivetevi, commentate, un saluto caldareando, narratore italiano.